ciao a tutti amici di vanilla oggi vi saluto non dall'entroterra romagnolo ma dalla costa di ravenna perché vi racconterò due storie che sono sì scientifiche ma traggono la loro origine proprio dai viaggi in mare iniziamo con onissimus ovvero lo schiavo africano che insegnò agli stati uniti la variolizzazione e poi parleremo di francisco xavier balmy e della prima spedizione internazionale di vaccinazione contro il vaiolo premetto che onissimus lo pronuncerò in inglese perché è negli stati uniti che le sue vicende diventano celebri boston aprile 1721 la nave seahorse attracca nel porto della città arrivata dalle indie occidentali corrispondenti grosso modo alle isole del centro america con il suo carico di merci e di morte a bordo ci sono persone che hanno contratto il vaiolo la più terribile e temuta tra le malattie infettive dell'epoca non c'è cura se non la quarantena sia per le navi attraccate in porto sia per le persone colpite in città che vengono isolate nell'azzaretto c'è un fuggi fuggi generale gli abitanti di boston scappano verso la campagna l'economia della città si blocca e in cinque mesi si contano un centinaio di morti in meno di un secolo è la sesta epidemia di vaiolo che colpisce la città prima di continuare a parlare di vaiolo e variolizzazione chiederei a quei sei spettatori su dieci che guardano questo video e non sono iscritti di fare una cosa semplicissima ma oggi mi avvalgo di uno strumento sopraffino un vero e proprio ritrovato della moderna tecnologia post industriale della società dei servizi sono sicuro che di fronte a tanta innovazione tecnologia non potrete esimervi dall'iscrivervi grazie mille a boston vive cotton mather che è un personaggio assai influente scrittore prolifico e importante ministro della chiesa esponente di spicco del puritanesimo può essere considerato l'artefice di quel clima di sospetto e paura che provoca la caccia alle streghe di salem influenza le sentenze durante i processi prima di chiamarsene fuori per l'evidente parzialità dei giudici ma questa è un'altra storia ether come era d'uso all'epoca possiede degli schiavi tra i quali ce n'è uno particolarmente sveglio onissimus che viene definito un giovane che è un negro di un aspetto e temperamento promettenti il suo padrone ne parla come di un guaramantese forse appartiene al popolo dei berberi forse proviene dal ghana o dal sudan al momento dell'acquisto di uno schiavo non è cosa di secondaria importanza appurare se avesse già contratto il vaiolo la malattia immunizzata con successivi contagi ether riferisce questa conversazione interrogando il mio negro onissimus che un tipo piuttosto intelligente se mai avesse avuto il vaiolo rispose sia sì che no e poi mi disse che aveva subito un'operazione che gli aveva dato qualcosa del vaiolo e che lo avrebbe preservato per sempre aggiungendo che era spesso usato tra i guaramantesi e chiunque avesse avuto il coraggio di usarlo era per sempre libero dalla paura del contagio onissimus descrive qualcosa di già conosciuto in altre parti del mondo la variolizzazione inoculare in una persona sana attraverso una ferita l'essudato di un paziente malato non in forma grave la procedura viene usata in africa in india in cina dove probabilmente viene sperimentata per la prima volta nell'impero ottomano una pratica tramandata di generazione in generazione nelle famiglie dai genitori a boston la variolizzazione è sconosciuta e mather cerca di convincere i medici della città a sperimentarla si trova davanti un muro di ostilità sia da parte dei dottori sia dalla parte del clero i medici lo accusano di voler violare le basi stesse della medicina infettando individui sani mentre il clero e i credenti puritani non tollerano chi tenta di ribellarsi alla volontà di dio le epidemie sono considerate eventi con il quale il padre eterno dimostra la sua collera solo il dottor zebdiel boyston si dimostra interessato all'esperimento tanto da provarlo sul suo unico figlio e su due schiavi nonostante le intimidazioni ricevute boyston infetta 242 persone un numero irrisorio rispetto agli 11.000 abitanti che conta boston d'aprile 1721 a febbraio 1722 quando cessa l'epidemia muoiono 844 persone un al malato su 7 tra le 242 persone variolizzate da boyston sono in sei a sviluppare la malattia con esito mortale una su 40 la resistenza dei cittadini di boston dei medici dei ministri della chiesa nasce da un forte pregiudizio viene considerata una pratica pagana che arriva direttamente dall'africa quale buon bianco puritano avrebbe voluto avere che fare con qualcosa che arrivava da un continente selvaggio e senza dio loro i bostoniani seguono la parola del signore e la sua volontà allora che sia fatta la volontà di dio in fondo è lui che decide quando finisce il tempo concesso a ogni uomo alla fine comunque anche loro si arrendono agli evidenti benefici dell'inoculazione del vaiolo e nel giro di qualche anno la pratica si diffonde mather continua a scrivere e muore nel 1728 boyston va a londra dove nel 1724 pubblica i risultati sulla prevenzione del vaiolo e diventa membro della royal society nel 1721 un'epidemia di vaiolo colpisce anche londra e nella capitale britannica è una donna lady mary montaghiu a far conoscere la pratica dell'inoculazione sperimentata su suo figlio a costantinopoli dal medico italiano jacopo pilarino al contrario di boston la varializzazione viene accolta con entusiasmo forse perché proviene da un medico italiano a londra tanto che vi si sottopongono anche i componenti della famiglia reale di onissimus invece non si sa quasi nulla se non che diventa un uomo libero ancor prima dello scoppio dell'epidemia ether lo affranca a malincuore tacciandolo in seguito di malvagità e immoralità ma evidentemente è un giudizio dettato dalla collera se nel momento dell'epidemia non esita a far tesoro di ciò che l'uomo aveva detto dandogliele credito alla fine la città di boston è talmente riconoscente lo schiavo africano da inserirlo nel 2016 tra i 100 migliori bostoniani di tutti i tempi nel 1798 l'inglese edward jenner sviluppa un vaccino contro il vaiolo che segna il decisivo passo in avanti nella lotta alla malattia con buona pace dei novax e pochi anni dopo la scoperta del vaccino per il vaiolo si svolge un'operazione che è semplicemente eccezionale definita la prima spedizione sanitaria internazionale il 30 novembre del 1803 dal porto di la corugna in spagna salva la corvetta maria pita alla volta del sud america che per quella che sarà chiamata real expedition filantropica della vacugna o spedizione balmis non è una spedizione di conquista o esplorazione quel tempo è ormai quasi passato bisogna invece preoccuparsi di mettere al sicuro le colonie da un nemico temibile quello stesso che ha sterminato le popolazioni native al momento degli arrivi dei primi coloni europei il vaiolo sul trono di spagna siede carlo iv un sovrano che pur non brillando quanto a forza di carattere è fautore di una monarchia illuminata anche se la rivoluzione francese prima e napoleone bonaparte poi impediranno le riforme da lui volute molti lutti colpiscono il sovrano su 24 delle gravidanze della moglie nonché prima cugina maria luisa di parma dieci si concludono con un aborto e solo 14 vengono portati a termine 14 figli la mente dei quali muore prima di diventare adulti mentre gli altri sono comunque poco in salute una sorta di maledizione familiare nonostante tutti quei figli si teme addirittura per la successione al trono provocata non solo dalle allora sconosciuti leggi delle ereditarietà ma anche da altre malattie una delle figlie di carlo maria teresa a tre anni muore di vaiolo così come il fratello gabriele e la di lui consorte l'infanta portoghese mariana victoria così quando nel 1798 il medico inglese edward jenner sviluppa il vaccino contro il vaiolo carlo iv ordina che tutta la popolazione spagnola sia vaccinata ma ci sono anche le lontane colonie americane e asiatiche dove la malattia miete molte vittime c'è però un problema all'apparenza insormontabile come trasportare al di là dell'oceano il vaccino mantenendo attivo il virus senza l'ausilio dei moderni frigoriferi sopravvive per pochi giorni inutile perché la traversata è troppo lunga l'espediente allora in uso di conservare il siero tra due lastre di vetro sigillate con la cera eppure quell'idea di vaccinare tutti i bambini nei territori dell'impero non viene abbandonata anzi carlo iv abbraccia la proposta del medico chirurgo di corte france francisco xavier balmis mettendoci una montagna di soldi pubblici per realizzarla è di fatto la prima grande missione sanitaria internazionale della storia balmis propone una cosa che oggi può sembrare eticamente inaccettabile ma che è all'epoca l'unico modo certo fantasioso di far arrivare il vaccino in territori lontani usando la poca tecnologia a disposizione il trasporto del virus mantenuto vivo in soggetti umani ancora prima della messa a punto del vaccino di jenner per combattere il vaiolo si usava una tecnica nota in cina india africa e medio oriente chiamata varializzazione l'abbiamo vista prima in pratica si contagiava una persona sana inoculandole del materiale preveria prelevato da lesione vaiolose o dalle crosse di pazienti non gravi il risultato del procedimento che non era così sicuro come il vaccino dava comunque ottimi frutti la maria pita dunque salpa il 30 novembre 1803 con a bordo lo stesso balmis due medici tre infermieri e la direttrice dell'onfa dell'orfanotropa della corugna isabel zendal gomes infermiera anche lei e soprattutto si imbarcano 22 bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni tra i quali c'è anche il figlio di isabel che è una madre single sono tutti orfani ospiti di strutture caritatevoli di madrid santiago e la corugna scelti per quella missione sanitaria i bambini subiscono la varializzazione e vengono isolati dagli altri poi quando sono in via di guarigione il fluido tolto dalle pustole viene inoculato ad altri due bambini e così via in un processo che consente di arrivare in america con il virus del vaiolo vivo ad occuparsi dei bambini c'è l'instancabile isabel che li cura e li accuggisce così come sancito dal regolamento della spedizione che afferma saranno trattati bene mantenuti e distruiti finché non avranno un'occupazione o un destino con cui vivere la spedizione dopo aver fatto tappa alle canarie per vaccinare tutta la popolazione arriva a porto rico il 9 febbraio del 1804 dal miss scopre che qualcuno lo ha preceduto il vaccino era già arrivato dalla vicina colonia danese di santo thomas il medico comunque contribuisce organizzando un ufficio preposto che avrebbe dovuto tenere traccia delle vaccinazioni effettuate e soprattutto si preoccupa di istruire i medici locali sulla conservazione del virus la spedizione poi arriva in venezuela dove in un mese balmis riesce a vaccinare 12 mila bambini ovviamente con la collaborazione delle autorità locali e intanto organizza la distribuzione dei vaccini nelle aree più lontane e remote del paese si occupa della formazione del personale medico e istituisce un ufficio centrale per le vaccinazioni poi preso a modello da tutte le altre colonie spagnole l'impresa però è immane così balmis divide in due la spedizione un gruppo guidato da lui stesso avrebbe raggiunto il messico l'america centrale e poi le filippine un altro diretto dal dottor cos'è salvani avrebbe toccato i vari paesi del sud america quando balmis arriva a cuba a maggio del 1804 scopre che un medico del luogo aveva già iniziato la vaccinazione utilizzando il siero di jenner allora si sposta in messico dove però sono già arrivate dosi di vaccino inviate da cuba balmis si limita a organizzare la campagna vaccinale poi parte per le filippine portando con sé 25 bambini messicani orfani per seguire la procedura di variolizzazione anche nella traversata dell'oceano pacifico con lui ci sono anche isabel zendal gomes e suo figlio la spedizione arriva a manila il 15 aprile del 1805 e lì rimane fino al 14 agosto del 1809 poi un gruppo torna in sud america compresa isabel che si stabilirà in messico con il figlio mentre balmis si dirige in cina dove sa per certo che il vaccino non è arrivato tornando verso la spagna decide di fermarsi in quello scoglio remoto che è l'isola di sant'elena dove propone la vaccinazione degli abitanti alle autorità britanniche che accettano intanto cos'è salvani impiega sette anni per attraversare i territori degli attuali stati di colombia ecuador panama perù cile e bolivia un'impresa massacrante che alla fine gli rovina la salute muore nel 1810 a coccia ciamba in bolivia per tubercolosi polmonare la spedizione di balmis che si potrebbe definire quasi visionaria per gli scopi e il metodo di attuazione rappresenta il primo esempio di uno sforzo di vaccinazione di massa che poi quasi due secoli dopo si conclude con l'eradicazione definitiva di una malattia terribile come il vaiolo ma il merito di balmis e dei suoi collaboratori al di là delle vaccinazioni sta anche nella loro precisa volontà di informare ed educare le popolazioni che raggiungono gli autori di un articolo pubblicato su clinical infectious disease tirano le somme di quell'impresa la spedizione è un modello di come uno sforzo di sanità pubblica internazionale costoso e logisticamente complesso possa portare la terapia medica avanzata in contesti culturali locali balmis sarebbe stato sicuramente orgoglioso di questo elogio comunque già all'epoca lo stesso eduard jenner l'inventore del vaccino antivaiolo ebbe a dire non riesco a immaginare che un esempio più ampio e più nobile di filantropia sia fornito negli annali della storia musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.